Il commissario Hogan ha confermato i nostri sospetti riguardo alla questione del formaggio fatto senza latte, ovvero la richiesta di adeguamento della normativa italiana alle direttive europee nasce da alcuni produttori italiani, ovvero oggi cosa accade? Che non è possibile in Italia produrre formaggi utilizzando latte in polvere e questo ha degli effetti molto positivi sia sul consumatore che sul produttore. Il consumatore perché può comprare un prodotto di qualità made in Italia e il produttore perché così riesce a valorizzare il suo prodotto utilizzando materie prime di qualità. Ora questo attacco al made in proveniente direttamente dai produttori italiani è una cosa che non ha senso, si vuole in questo modo purtroppo forse privilegiare quei furbetti che non sanno come rimanere sul mercato se non abbassando la qualità.